a breve è l'ultimo appuntamento della giornata, è l'ultimo chilometro, è l'ultimo strappo, mi è proprio paura prima dell'appuntamento, anche se non è una gnocca, è un amico, siamo amici, siamo oggi, però siamo senza musica, tocca abbassare perché il copiletto se no ci restano, ci legano, ci aiutano, ci oscurano, siamo ancora da parte di youtube nel periodo dell'oscurantismo, rialziamo perché se non c'è continuità qualcosa si può anche fare, e allora secondo me sto male, aria condizionata, mi da colate inside, fuori fa molto caldo e quindi a breve una coperta, sì la coperta, ammazzarli i curaci, portacela bene perché là fuori fa molto caldo, noi qua sotto, nel tetto con l'aria condizionata siamo la crema, e allora secondo te sto male, ultima botta le fatturato e poi metto a folle e me butto a discesa, sono miracolato, c'è il cocchiello e viva la vita, bella per te, saos!